Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione importantissima che riguarda un indirizzo politico sul nuovo regolamento comunale edilizio contenuto nel nuovo PRG. Oggi stiamo provando a migliorarlo, stiamo provando a dirigerci verso un maggiore sviluppo della nostra città e questo ringraziamento va sicuramente alla mia commissione, alla terza commissione consigliare di cui ne sono presidente, ai colleghi miei di maggioranza che ieri hanno votato all'unanimità la proposta ed anche ai tecnici della città perché hanno svolto un ruolo importante nell'indicare le modifiche da apportare. Spero che ora la palla passa al commissario d'acta Architetto Coniglio, spero che possa recepire queste modifiche prima di spedire tutto a Palermo. Se non fosse così questa mozione potrà servirci in zede di osservazioni per poter far valere i nostri indirizzi. Entrando nel merito della mozione votata ieri e quindi della proposta, Biancavilla qualora avresse luce questo importante lavoro si doterà di uno strumento a mio modo di vedere molto importante che è l'accessione di indice di cubatura tra terreni omogenei anche non contigui. Quindi i cittadini potranno presentare progetti coinvolgendo terreni che non sono necessariamente contigui. Questo per far sì di indirizzarci verso un maggiore sviluppo e dando finalmente respiro a quella che è l'edilizia che in questi anni purtroppo sta avendo molte difficoltà. Un'altra proposta di modifica per esempio è la costruzione sui terreni agricoli. Oggi abbiamo un regolamento che prevede 10 metri di distanza dal convine. Con questa proposta si passerà 5 metri. Quindi speriamo anche con le altre che sono state formulate grazie ripeto ai tecnici della città speriamo di poter dare una boccata di ossigeno.